Musica Salve spettatori e benvenuti in questo nuovo video tutorial Oggi siamo qui con un'altra lezione sull'HTML E oggi vediamo un po' di curiosità sulle immagini Su come inserire immagini Nel nostro sito Effettivamente noi avremo delle immagini Di diverso tipo Vediamo che effettivamente sui vari siti Vengono inserite tanti diversi tipi di immagini E possiamo inserirle di qualsiasi estensione Che siano GIF Che siano JPG Che siano PNG Che siano tutto quello che volete Però dovete considerare una cosa La maggior parte delle volte E' vero che noi possiamo tramite l'HTML Ridimensionare le immagini Ma se le fate di una dimensione Comunque per lo meno Coerente possibile all'utilizzo che dovete fare O meglio la posizione in cui dovete inserirla Chiaramente siete molto più agevolati Questo specialmente per quando andate a mettere Queste immagini come background Che non è quello che vedremo oggi Perché quella è una parte del CSS Mentre oggi vediamo proprio come inserire delle immagini Proprio per mettere delle icone Oppure proprio un'immagine di background Che porterà diversi link eccetera Questo è quello che vediamo oggi Altro consiglio che vi do Le immagini Ok la qualità Ma mai troppo pesanti Perché Altrimenti vi carica Prima tutto l'HTML del sito E poi Andando a caricare le immagini Ci mette 30 anni Quindi rischiate Di vedere tutta la pagina Senza le immagini E poi le immagini le carica Tipo 3 minuti dopo che avete caricato il sito E non è una bella cosa Bene andiamo a vedere però Come inserire un'immagine Qui vi ho creato la sezione della nuova lezione E adesso usiamo il tag img Esattamente in questo modo È un tag singolo come vedete Per inserirgli l'immagine Utilizziamo il parametro src In src noi effettivamente andremo a mettere l'url Ossia il percorso in cui si trova effettivamente la nostra immagine Se è un url esterno Un link esterno Andiamo a mettere qui dentro Http2.slashblablabla E il link dovrà finire con Nome dell'immagine Punto png JPG GIF Quello che sia Mentre se si trova sul nostro sito Cosa che in genere è normale Gli diamo il percorso interno al nostro sito Qui abbiamo la nostra cartella In genere si fa così Si crea una nuova cartella dentro la cartella del sito Che si chiama image E dentro la cartella image Noi gli andiamo a inserire effettivamente la nostra immagine In questo momento io prenderò questa immagine Nero alle 15 che è la copertina del video che uscirà domani su Nottingham 00 E quindi ha uno spoiler Attenzione agli spoiler E non segue effettivamente le cose che vi ho detto io Perché questa copertina è in 4k Praticamente quindi è molto grande come immagine E chiaramente pesa anche un bel po' Tanto è vero vedete 16 mega 16 mega sono tanti per un'immagine Però chiaramente perché ha un certo Una certa risoluzione Quindi gli andiamo a mettere image Slash role 15 Punto JPG JPG controlliamo il formato File JPG Fatto questo andiamo ad aprire il nostro sito web Ecco qua il nostro sito E come vedete ci apre l'immagine a caratteri cubitali E per di più è talmente grande Che ci fa spostare il sito pure lateralmente Bene Ora vedremo come sistemare questa cosa Ma prima vi dico un altro parametro Ossia l'alt Un altro parametro che dovete sempre mettere nelle immagini E ci mettete un nome ad esempio role 15 Il nome dell'immagine Che cosa serve l'alt? Se per una qualche ragione l'immagine andasse persa Non riesce ancora a caricarla o cosa Al posto di vedersi un errore con l'icocina che non compare Vi scrive proprio il testo che voi mettete qui nell'alt Quindi se non riesce a caricare l'immagine Vi scrive quel testo Questo è utile specialmente per il logo Se tipo io metto un'immagine qua nel logo Io nell'alt ci metto logo Mettiamo che l'immagine non esce fuori Allora mi stampa logo Mettiamo caso ad esempio Mi viene in mente il sito che vi ho fatto vedere Nel primo episodio Quello dei parrucchieri Isabel Vegas E non carica il logo di Isabel Vegas Io comunque nell'alt ci metto Isabel Vegas E quindi al posto del logo comunque è brutto Però mi uscirà una scritta Isabel Vegas che è coerente Non mi esce un errore per vedere che il sito è sminchiato Ecco parliamoci chiaramente Ok fatto questo invece il nostro problema adesso è ridimensionare effettivamente Questa immagine qua che è decisamente troppo grande E qui andiamo ad utilizzare quei famosi parametri che vi avevo detto Spesso e volentieri basta semplicemente impostargli la larghezza Per stringere l'immagine e quindi stringerla Perché voi pensate che se la stringete così Non è che ve la appiattisce Lui automaticamente vi stringe tutta l'immagine partendo dagli angolini Ok fa questo ragionamento qua Tu mi stringi la larghezza quindi io faccio questa cosa qua Facendo questa cosa qua vedete che comunque anche l'altezza cambia Vediamo se è vero effettivamente Proviamo a vedere se ci sono stati dei cambiamenti Infatti vedete come è diventata piccolina Adesso noi la facciamo Se noi gli mettiamo anche 8 Facciamo un'altezza molto più grande Molto più grande della larghezza Vedete che l'andiamo a fare schifosa Però se noi togliamo l'altezza E gli impostiamo solamente la larghezza Già quello basta per ridimensionarla Questo è proprio il motivo per cui vi dicevo Fate ridimensionate prima voi con Photoshop Con Paint con quello che volete L'immagine in modo che sia coerente Perché se tipo l'immagine deve essere quadrata Non fate E però di origine rettangolare Non fatela diventare voi quadrata Con i parametri width ed height No Fatela già quadrata come vi serve a voi E poi la grandezza Quadrata o rettangolare Seconda insomma di quello che avete bisogno E poi impostate solo la larghezza Perché solo con la larghezza Andate a modificare anche l'altezza Come avrete visto Infatti se adesso io metto 500 qua E ridimensiono Vedete che viene già fuori Un'immagine decente Ha già un modo suo Bene Però io adesso voglio cliccare Questa immagine Voglio che porti ad esempio Al mio canale Abbiamo visto la scorsa volta Come mettere gli url Ebbene Come vi ho detto Dentro al tag a Potete metterci qualsiasi cosa E infatti potete Metterci anche un'immagine Dentro al tag a Youtube.com Vabbè in questo caso Ci porterà direttamente a Youtube Come vedete io premo E qua diventa cliccabile l'immagine Clicco e mi porta su Youtube Effettivamente No problem Come avete visto Proprio no problem C'è un'altra curiosità Che noi possiamo vedere Con le immagini E che funzioni Sempre tramite link Questa cosa qua Si chiama Mappa Delle immagini Possiamo creare una mappa All'interno della nostra immagine Allora vedete che nella nostra immagine Ci sono tanti elementi Tante cose che noi visualizziamo E possiamo mapparli Tramite le coordinate che si trovano In mezzo all'immagine E se tipo io clicco La testa di Not In questo tipo Se cliccassi qui sulla testolina Mi uscirebbe Vorrei che mi linkasse Al mio canale Se clicco sulla testolina Di Meg Vorrei che mi linkasse Invece al canale di Meg Insomma tipo un po' come una copertina Questi sono i personaggi Che interpretano Io voglio vedere la scheda di info Su di loro E voglio scoprire Chi sono Cliccandogli sulla testolina O proprio addirittura Su tutto il personaggio Mentre se clicco Da un'altra parte Qualsiasi non fa nulla Perché non è cliccabile Queste cose È possibile farla Se noi prendessimo Tutte le coordinate Del corpicino Dell'immagine Che a noi interessa Sempre nella stessa immagine Un po' come fare Tanti link In una diversa immagine Come si fa questa? Ci sono dei siti apposta Che ci generano la mappa Perché chiaramente Andare lì a scoprire Tutte le coordinate È impossibile In questo momento Io mi sono salvato questo Che fa un ottimo lavoro E ora vi spiego come Selezioniamo la nostra immagine Settiamo che la carichi Eccola qui Dopodiché qui Possiamo fare Quello che vogliamo Innanzitutto Dobbiamo decidere Lo shape Ossia il tipo di Tracciamento Come lo dobbiamo mettere È retto Se facciamo retto Vi fa un rettangolo Dato che se voi notate Qui non è un rettangolo Perfetto Perché andrebbe a prendere Dentro anche la spalla E soprattutto Taglierebbe fuori Una parte Ecco adesso ho fatto una cazzata Taglierebbe fuori Una parte di Non riusciamo Un rettangolo Non riusciamo a fare Quello che vogliamo Perché va a prendere Anche robe Che non ci vanno bene Stessa cosa Cycle Cycle Scusate Se faccio un cycle Chiaramente Eh lui Lui mi va a prendere Una cosa rotonda In questo caso Non abbiamo una cosa rotonda Quindi nella maggior parte Dei casi Siccome È difficile avere Delle figure geometriche Perfette All'interno di un'immagine Si utilizza Il poli Ossia il poligono Il poligono Gli andiamo a dare Noi punti di tracciamento Ad esempio qui Poi voglio che salti Fino qui Vedete che già sta iniziando A prendere forma Poi voglio che arrivi Fino qua Poi qua Praticamente gli sto dando Tutti gli angoli E poi qui Come vedete Io ho selezionato Perfettamente Ora la testa di noting 00 Ora gliela sistemo Un pochettino così Vedete che è venuta Perfetta Ora gli do il link Del mio canale Perché quando io Andrò a cliccare Su noting 00 Voglio che effettivamente Lo porti Al mio canale Se clicca sulla mia testolina Qui ci mettiamo Un titolo Notting 00 Questo penso sia Appunto Quando passo sopra Con la freccettina Mi dice Esce quella Quella scrittina Che ho fatto vedere La volta scorsa Il target invece è In che modo vogliamo Che effettivamente Lui ci link Usiamo il blank Che vi ho fatto vedere La volta scorsa Vi apre il link In un'altra parte Adesso andiamo a fare Add new area E facciamo la stessa Identica cosa Con la testolina di Meg Facciamo Qua è più complicato Perché Visto che Meg È in questa posizione qua È un po' più complicata Poi vado a prendere qui Vado a prendere qui Qui andiamo a mettere Il link del canale di Meg Che onestamente Non so come sia Perché lei Bene Abbiamo recuperato il canale Di Meg Quindi incolliamolo qua E mettiamo Meg E anche qua Mettiamo blank Ora facciamo Show me the code Show me the code Come vedete Genera questo codice Qui sopra innanzitutto Ci mette L'immagine Che però noi L'abbiamo già fatto Questo codice Qua invece Noi abbiamo la mappa Quindi copiamo Torniamo sul nostro codice E sotto la nostra immagine Incolliamo per l'appunto La mappa Poi la indentiamo bene Perché Facciamo le cose ordinate Come vedete Il codice è questo Tag map Gli diamo un nome A questa mappa Dopodiché C'è il target Del link Del tag area Abbiamo l'alt Per l'appunto Come vi dicevo Se non Venisse visualizzata L'immagine Stessa cosa Il title Per quando ci passiamo Sopra con la freccia L'href Per link Per linkare E qui abbiamo Tutte le coordinate Che noi abbiamo Settato in quel modo Lì E poi come shape Dice appunto Poligono Il nome della mappa Ci serve Per linkare Effettivamente Questa mappa Alla nostra immagine Infatti qui andiamo a mettere Use map Uguale E qui ci mettiamo Il nome della mappa In questo modo Il nostro html Saprà Che questa immagine Qui deve caricarci Sopra una mappa Con queste due aree Che si trovano Queste determinate coordinate E quando io passo sopra A queste coordinate Deve darmi la possibilità Di cliccare I due rispettivi link Vuole un cancellato davanti Me l'ho completamente scordato Questa cosa Come fosse un id Non so perché Non chiedetemelo Però vuole il cancellato davanti Infatti ripeto Facciamo così Vedete Ecco non ho tenuto conto Di una cosa importante Noi è vero Che abbiamo fatto Le coordinate Ma le abbiamo fatte Secondo Questo Questa immagine Grande Tutto lo schermo In realtà Dovevamo Già a ridimensionargliela Quindi quando andate A fare queste cose Dategli l'immagine Già delle dimensioni giuste Infatti non funzionava Adesso che gli ho rimesso L'immagine a schermo intero Vedete che se vado qua Non funziona Se clicco sulla mia testa Mi porta al mio canale E se clicco invece Sulla testa di Meg Mi porta al canale di Meg Mentre se clicco qua Nello spazio vuoto Non fa assolutamente Nulla Vedete Continuo a cliccare Ma non fa niente Testa di Meg Testa mia E funziona Se vado sul mio corpo Non va Se vado sul corpo di Meg Niente Vedete Quindi le coordinate Effettivamente funzionano Però devono essere Della dimensione giusta Detto questo signori Io spero di esservi stato utile Anche per questa volta Di avervi insegnato qualcosa di nuovo Nell'HTML Noi ci vediamo nel prossimo video tutorial Vi invito a condividere il video In modo tale che possa essere utile Anche ad altre persone Iscrivetevi per nuovi video come questi Lasciate un like Al prossimo video tutorial Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Noi ci vediamo Noi ci vediamo